Le festività sono spesso sinonimo di tradizione, la panacea di ogni crisi che porta sempre serenità e allegria nelle nostre case. Quest'anno l'entroterra riminese nel weekend di Pasqua, nonostante un clima tutt'altro che primaverile, è stato preso d'assalto da numerose persone. In particolare, tanti riminesi, ma anche turisti, hanno trascorso i lunedì dell'Angelo a Montescudo, dove anche quest'anno è stata organizzata la seguitissima Sagra del Garagolo. Una festa paesana dedicata al prelibato mollusco, un appuntamento fisso per tutti gli amanti del genere. Stand gastronomici con degustazioni di specialità locali, balli con orchestra, folkloristica e mercatino d'antiquariato. Il tutto nella cornice della graziosa Santa Maria del Piano. Tanti visitatori che hanno degustato il rinomato Garagolo cucinato secondo le ricette tipiche di Montescudo, ma anche piadine farcite, primi a base di pesce, spiedini e fritto misto. Un appuntamento gioioso e invitante per passare insieme ai propri cari, un giorno festivo lontano dalla solita routine quotidiana. Feste, tradizioni, ma anche il piacere di assaporare le specialità tipiche della cucina romagnola in agriturismo. Il luogo adatto per rilassarsi e concedersi alle numerose prelibatezze preparate con ingredienti naturali, sani e biologici. Un angolo di paradiso nell'entroterra riminese dove riscoprire l'antico gusto della tradizione e del sorriso seduti a tavola. E vincere così il gusto amaro della crisi.